Noi come Forza Italia abbiamo sempre espresso le nostre perplessità e anche critiche a partire dal nostro Ministro degli Esteri che poi ha voluto addirittura formalizzare una nota in cui chiedeva alla BCE di rivedere questa decisione che evidentemente non aiuta ma invece favorisce un'ulteriore depressione. Questa è la grande preoccupazione che tutta la delegazione di Forza Italia ha rappresentato attraverso un'interrogazione parlamentare rivolta alla BCE proprio per chiedere di interrompere questa politica che va in una direzione completamente opposta. Noi dobbiamo favorire la ripresa economica, non possiamo non considerare che questa inflazione è determinata soprattutto da fattori esterni all'Unione Europea ed è l'Unione Europea attraverso il suo strumento bancario che deve reagire ma non in questo modo.